Allora siamo qui da questa mattina in presidio davanti ai cancelli a Michelin in rapporto a questa decisione molto grave che ha preso Michelin di chiudere alcuni impianti tra cui anche il magazzino qua di Tribano. È una giornata di lotta dove anche in Piemonte ci sono state manifestazioni, scioperi, anche qua a Tribano abbiamo aderito a questa iniziativa di sciopero nazionale del gruppo Michelin e adesso sentiamo appunto a Bara cosa ci dice della giornata di lotta di oggi. Allora come avevamo già promesso nei giorni scorsi proprio da quando è stato annunciato il piano della Michelin, quello di chiudere proprio il sito di Tribano e qualche riparto a Torino, lasciare a casa tranquillamente possiamo dire un migliaio di persone a casa. ovviamente abbiamo annunciato fin dal primo momento che siamo contrari intanto alla decisione così presa perché secondo noi è insensata, non ha logica perché ovviamente a Michelin noi ci lavoriamo da circa 20 anni e sappiamo che a Michelin non ha mai avuto problemi, crisi, cali e quant'altro. È un'azienda che va bene a livello generale ma anche parlando precisamente del sito di Tribano. A Tribano i posti di lavoro che vanno persi sono circa in 120, 120 divisi, 28 dipendenti Michelin, 30 dipendenti Brio e poi 60, circa 60-70 padroncini. Oggi noi abbiamo proclamato lo sciopero che abbiamo addiritto allo sciopero che è stato proclamato a livello nazionale Michelin in tutti i stabilimenti. A noi ci dispiace che proprio colleghi Michelin dipendenti che non hanno addiritto loro allo sciopero per motivi che non riusciamo a capire nel senso che sono coinvolti anche a loro, c'è un sciopero comunque indetto anche dai loro colleghi, ma comunque dopo mezza giornata circa, dalle 4 fino alle 2 a questo momento, è una giornata che è andata alla grande, abbiamo bloccato i mezzi in entrata e in uscita, abbiamo aderito noi come dipendenti Brio al 100%, non ci sono problemi, sicuramente non sarà l'ultima iniziativa in questo percorso che sarà sicuramente percorso dei lotte nel rivendicare intanto un diritto fondamentale, quello del diritto al posto del lavoro e poi ovviamente la prima cosa che possiamo dire tranquillamente è che la Michelin, chiediamo direttamente che la Michelin ritiri le sue decisioni e che andiamo a trattare, a vedere i problemi che hanno e cerchiamo di essere coinvolti anche a noi, anche magari a risolvere se ci sono delle questioni da risolvere.